Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi un video solo sui grafici perché sono in viaggio e volevo fare anche un video che facesse un po' il quadro, il punto della situazione a livello solo ciclico su quella che è l'attuale situazione del ciclo di Bitcoin, iniziando dall'annuale che abbiamo visto da novembre del 2022 fino all'attuale situazione, che cosa è successo in questi periodi, soprattutto quali sono i cicli più grandi che Bitcoin sta andando a disegnare e dove siamo in questo momento, quindi quale parte della struttura ciclica annuale stiamo disegnando e quelle che sono le possibilità anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per il re delle criptovalute di poter fare nuovi massimi magari o riprendersi da questa fase di sonnifero perché ragazzi siamo veramente nella parte di volatilità dei mercati delle criptovalute più bassa che io ricordi da sempre guardate un po' il grafico settimanale di Bitcoin schiacciato con un andamento in pratica da 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane che è sostanzialmente una laterale ribassista semi immobile, diciamo così, perché siamo andati da 30.000 fino a 29.004, cioè un'oscillazione di 1000 dollari che per Bitcoin sono veramente pochissimi con dei pump and dump, queste shadow pronunciate, ma in sostanza la conferma che questa fase è per lo più una fase a bassissimo tasso di volatilità, il più basso di sempre ragazzi, guardate dove siamo finiti con il mio indicatore che misura la volatilità in termini percentuali, siamo veramente in zona bassissima rispetto a questo che era già un limite inferiore sulla volatilità delle candele settimanali quindi veramente un periodo di, oserei dire, tranquillità si evince questa stazionarietà dell'indice di Bitcoin anche dai grafici più corti questo è un grafico che io utilizzo per i cicli settimanali, quindi un grafico da 90 minuti mi piace utilizzare questo per quanto riguarda il ciclo settimanale guardate la struttura, in pratica è un elettrocardiogramma quando arriva un momento del genere, in sostanza significa che il mercato è fermo cioè questa oscillazione indica che Bitcoin ha raggiunto un punto di equilibrio che sta all'interno tra questo livello e questo livello quindi sostanzialmente sono i 30.000 dollari, giusto per spiegarlo a livello tecnico ma anche a livello visivo è più o meno logico, si era capito Bitcoin i 30.000 dollari li ha raggiunti e le oscillazioni intorno a questo valore conferisce al valore di 30.000 dollari una struttura di prezzo di equilibrio la questione per ragionare in termini di medio-lungo periodo è legata al fatto se questo prezzo dei 30.000 dollari può essere rappresentativo di una fase di riaccumulazione o ridistribuzione per chi non conosce questi termini ragazzi vi spiego, ecco mi prendo una parte del grafico totalmente libera e vi spiego più o meno che cosa significa quando un asset finanziario fa una trend che possiamo identificare come questo che è un trend di natura rialzista sostanzialmente passa da un punto A a un punto B quando arriva al punto B e il trend in questione, il trend di breve periodo si ferma ma il mercato inizia a lateralizzare, cioè produrre una serie di oscillazioni con delle barre laterali che per questioni di praticità noi possiamo configurare e identificare come delle barre e come orizzontali però non è propriamente così in quanto i mercati non sono così precisi quindi questo lo diciamo a livello tecnico ma teorico ma a livello pratico poi solitamente i mercati quando raggiungono appunto il B quello che fanno è magari oscillare in questo modo quindi disegnano un laterale ribassista come questo che vi sto indicando oppure possono disegnare la stessa figurazione però magari al contrario e quindi in pratica vanno a lateralizzare però in forma al rialzo e quindi fanno una cosa del genere e configurano un laterale però impostato in questo modo la questione dove sta? questi laterali, queste forme laterali che appunto teoricamente per semplicità identificheremo con delle barre orizzontali anche se vi ripeto non è assolutamente così nella stragrande maggioranza dei casi allora immaginiamo una balla orizzontale questa struttura si definisce barra di accumulazione oppure distribuzione cioè uno delle due è lo scopo di questa barra quando parliamo di un'accumulazione che deriva da un trend rialzista si definisce ri-accumulazione quindi non un'accumulazione semplice bensì una ri-accumulazione dovuta alla fase già prettamente rialzista che è avvenuta se invece il mercato sta distribuendo sostanzialmente cosa farà? tenterà un breakout nel medio-lungo periodo di questa barra e inizierà un trend al ribasso portandosi poi magari da un punto C a un punto D se invece la barra sarà definita barra di ri-accumulazione quello che farà il mercato è andare in pratica a breccare la barra rialzista che sta facendo come forma di ri-accumulazione e conferirà un nuovo trend portandosi quindi poi da un punto C a un punto D che questa volta è identico al trend precedente quindi queste sono le strutture che il mercato può andare a disegnare ora questa situazione di ri-accumulazione come vedete si sta identificando proprio in questa fascia e in questo momento io sto prendendo i prezzi del future CME di Bitcoin che sono esenti quindi dai sabati e le domeniche perché volevo anche farvi vedere la precisione anche di questo future come Bitcoin sta sempre più definendosi come un asset quasi non istituzionale però diciamo che è rientrato a far parte degli asset finanziari standard perché anche il future di Bitcoin dopo un totti anni ha assunto diciamo una mezza rilevanza non è iper rilevante ma ha assunto una mezza rilevanza diciamo così cosa che prima precedentemente negli anni scorsi non era proprio ragazzi io vi ricordo che il future è nato nel 2018 di Bitcoin quindi veramente giovanissimo allora questa struttura guardatela un po' è una laterale ribassista che può essere identificabile come una barra di accumulazione nuova quindi ri-accumulazione oppure distribuzione e l'intera anche struttura che è quella che vedete qui può essere identificativa della stessa cosa cioè noi possiamo avere una ri-accumulazione di questo movimento oppure una distribuzione di questo movimento ciò significa che per la definizione che vi ho dato prima abbiamo due livelli di barre una è questa che è la barra più piccola quella che viene a identificare la fase attuale e l'altra è la barra più importante cioè quella che identifica la fase di lungo periodo su Bitcoin questi due livelli 1 e 2 sono fondamentali e questo è quasi fondamentale diciamo così lo inseriremo con una mezza parentesi quadra perché? perché questo livello potrebbe essere breccato configurando questa fase una distribuzione di questo trend e quindi poi andando a rimpattare sul livello inferiore però potrebbe fermarsi lì quindi in sostanza non modificare la struttura di lungo periodo identificamolo a medio-lungo perché è non corretto parlare proprio di lungo periodo quindi medio-lungo e questa zona qui puoi magari identificare un'altra zona di rimbalzo quindi la fase centrale come vedete è più leggera mentre la parte alta è assolutamente la più importante perché significa che breccato questa fase soprattutto dopo un doppio massimo che si è andato a identificare con aprile e poi con luglio proprio in questi ultimi giorni identificherebbe una struttura di riaccumulazione e quindi il mercato innescherebbe un trend rialzista che potrebbe poi portarci ai famosi 40-42 mila proprio prima della chiusura dell'annuale badate bene che a livello ciclico una cosa del genere non è prettamente standard anzi è essenzialmente un po' in eccesso perché dalla struttura ciclica passando appunto all'analisi ciclica di bitcoin si evince che noi siamo in un quadrante che può essere identificato come un quadrante di distribuzione non di accumulazione fermo restando che parliamo di un ciclo così definito quindi immaginate un ciclo perfetto come se fosse una parte up che è la prima e una parte down che è la seconda ovviamente un ciclo del genere esiste ma non è così comune come sempre ragazzi perché i cicli sono estremamente variegati però sempre per questioni di natura teorica lo immaginiamo in questo modo quindi da questo punto che è uno snodo io l'ho anche indicato più volte nei video di youtube il mercato è passato nella fase down fase down che in realtà si acuisce da qui in poi cioè diventa estremamente pericolosa da novembre in poi perché a meno che il mercato non inizia a fare dei massimi in questa zona e poi parte da lì e chiude più in alto da novembre in poi abbiamo l'ultima fase del ciclo annuale che il mercato deve andare poi a chiudere e quindi in sostanza può essere pericoloso può verificarsi magari un ribasso di questa entità o anche di questo questo per esempio era la chiusura di un ciclo annuale comunque è stato un'entità importante di ribasso ovviamente venivamo da un super trend però rialzista però anche questo ragazzi era una chiusura di un ciclo annuale poi sfociata anche con l'anomalia della questione pandemica quindi sono tutte strutture cicliche che vi dicono l'importanza appunto di questa chiusura del ciclo annuale che avverrà teoricamente da novembre in poi anche se ci sono delle poi eventuali eccezioni che andremo a vedere appunto dal mese di novembre allora dove siamo in questo contesto immaginate di dividere quindi le strutture cicliche come questa qui a quattro quadranti quindi un quadrante il secondo quadrante che è questa zona il terzo quadrante e il quarto quadrante che è questo immaginiamo quindi un ciclo standard teorico identificato da quattro strutture sottostanti queste quattro strutture sottostanti ragazzi sono in teoria up le prime up la seconda e poi dipende ecco dalla natura del ciclo se c'è rialzista neutrale o ribassista cambiano l'esito di queste strutture però di solito qui abbiamo una neutrale e qui abbiamo una negativa quindi una down sostanzialmente il mercato sembrerebbe proprio bitcoin stare creando un ciclo neutrale proprio in questa fase e teoricamente da qui in poi dovrebbe poi iniziare l'ultimo ciclo che va a chiudere l'annuale ora dov'è la questione? che un ciclo neutrale quindi se siamo in una quadrante 3 in questo momento per la ciclica e ci dice che questo ciclo è neutrale dovrebbe essere neutrale vi ripeto è una teoria quindi ci sono mille anomalie alla struttura ciclica è solo per fare una semplificazione ci dice che questa fase di relax è assolutamente normale ma che ancora i massimi nuovi possono essere possibili perché qui non siamo in una fase down ciò significa che la probabilità che i massimi avvengano ancora nella fase 3 c'è ragazzi non è bassissima nella fase D4 la probabilità è più bassa non è che non c'è c'è ancora la probabilità di fare nuovi massimi però diventa più difficile è tutto qui il discorso è una questione sempre di probabilità immaginate un baffo che si muove invece di avere il 45% di probabilità scende al 35% di probabilità quindi questa a proposito non vi aspettate probabilità dell'80% nei mercati finanziari dove esiste l'aleatorietà quindi abituatevi a ragionare in termini di proporzioni e di probabilità che sono leggermente più semplici più standard meno invasivo e un po' meno anche da utili da trading perché le probabilità poi a un certo punto se sono 80-20 ovviamente è tutto a favore invece qui siamo magari a 40-60 che è una probabilità esatto a favore però il 40% non è una probabilità bassa insomma e quindi non vi aspettate eccessi da questo punto di vista allora qui dove siamo ragazzi teoricamente sul grafico del CME in questo contesto in questo momento noi siamo a 50 giorni della fase 4 fase scusate 3 fase 3 la fase 3 che teoricamente io ho posizionato tra 90 e 105 giorni che è uno standard e soprattutto mi porta anche alla fine del mese di settembre ciò significa che il tempo per andare a fare questo sta iniziando a scadere perché noi dobbiamo avvicinarci man mano a fare un tentativo di nuovi massimi per poi andare a chiudere questa fase in questo modo ora qualora il mercato non si riuscisse a fare questi massimi e mantenesse questi massimi qui attivi questo questa fase che è la fase 3 ve lo ripeto a livello ciclico dell'intero annuale di bitcoin diventerebbe debole e pericolosa ma anche estremamente significativa rispetto alla fase 4 perché una struttura del genere che si avvicina pericolosamente ai 24 25 mila dollari innescherebbe probabilmente una fase di recupero per l'inizio della fase 4 ma poi un tentativo andato a male con una fase di chiusura che potremmo identificare in questo modo ora come vi ho disegnato questa struttura ciclica annuale ragazzi è uno standard da manuale proprio dei libri di analisi ciclica qualcuno di voi mi chiede sempre ma i libri di analisi ciclica ma analisi ciclica teoria dei cicli di borsa di migliorino lo trovate su Amazon e costa un bel po' però ve lo consiglio è vecchissimo e molte cose che sono lì non sono più attuali però le basi insomma le prendete anche da lì un giorno poi se riuscirò a scriverlo lo facciamo insieme all'intatto prendete queste chicche cicliche così riusciamo anche un po' a chiarire le idee di chi mi segue da tanto magari senza l'esperienza giusta sulla struttura ciclica allora questa sarebbe la struttura ciclica di bitcoin più semplice standard coerente con la probabilità con la teoria insomma se fanno una cosa del genere ragazzi è il manuale proprio a bc poi ovviamente da questa versione capite bene che qui nuovi spunti rialzisti ce ne sono pochi la versione poi più standard quella che avvicina il mercato sarà il solito rumore di fondo con tanti fake breakout quindi magari un tentativo di poter fare un nuovo massimo è andata male che configura una cosa del genere e magari andiamo a fare una close così quindi più standard però io dico e ve lo ribadisco che il concetto che voglio far passare è il concetto delle fasi cicliche in questa mini lezione di analisi ciclica che portiamo sul canale tra le altre cose per la prima volta mi spostano ogni volta i bannerini ma non so dove intanto chi arriva arriva una telefonata ok scusate ragazzi che ho chiuso allora mi spostano i bannerini dei tasti e non li trovo mai ecco qui il misuratore è avvenuto allora questa fase qui ragazzi è vicino agli sgoccioli perché qui siamo a metà di questa struttura da 100 giorni quindi la possibilità di andare a riprendere una nuova fase c'è c'è ancora però più passa il tempo più si assottiglia questa possibilità e poi c'è un livello che volevo farvi vedere per chiudere il video che è questo qui è un livello che ho posizionato sul grafico normale di bitcoin quello dello spot non il future e sul grafico settimanale che è questa media mobile a 26 settimane cioè la media mobile dei 6 mesi che qualora venisse toccata e breccata sarebbe estremamente pericolosa una cosa del genere perché andrebbe a configurare una fase di bassista che deve assolutamente rispondere a questa chiamata altrimenti se va giù a questo livello si configura una difficile impostazione ciclica e la fase attuale di questo trend rialzista perde estremamente forza e quindi è possibile che la fase 3 di bitcoin del ciclo annuale non vada a creare nuovi massimi questa è la fase 3 e che la fase 4 poi si configuri come interamente orientata alla struttura laterale ribassista o peggio solo ribassista quindi attualmente quello che state vedendo in questa fase risponde a queste logiche ragazzi che vi ho detto spero di essere stato estremamente chiaro una leazione di analisi tecnica e mista analisi ciclica estremamente rilevante salvatela nella vostra rubrica nella vostra playlist di youtube in modo da rivederla tante volte soprattutto andiamola a rivedere perché no tra qualche mese per capire se effettivamente è successo una cosa del genere e come il mercato si è mosso secondo questi concetti per chi volesse ovviamente all'interno dei commenti scrivetemi anche quello che pensate e quello che volete aggiungere per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video e intanto buon weekend ciao